Buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino. Elezioni il vice premier e leader della Lega è stato ieri sera a Campobasso. Ascoltiamo uno stralcio dell'intervista. Giovanni Minicozzi. Il decreto sicurezza bis quando si approva con la complittualità del Movimento 5 Stelle? Domani c'è in preconsiglio e settimana prossima in Consiglio dei Ministri. Ci sono norme per mettere in galera i camorristi, ci sono norme per intercettare gli scaffisti, ci sono norme che prevedono il sequestro delle imbarcazioni che in mare raccolgono i migrati e non rispettano le indicazioni delle capitanerie e le convenzioni internazionali e soprattutto ci sono pene più forti per chi aggredisce poliziotti o carabinieri. Nei primi mesi di quest'anno ci sono stati più di 630 carabinieri aggrediti, curati, ricoverati e medicati. Non è possibile che qualcuno ritenga che si possa aggredire un poliziotto, un carabiniere, un vigile del fuoco, un finanziere senza pagarne conseguenze. Capisco le polemiche elettorali però la lotta ai camorristi e agli scafisti non può aspettare altre settimane quindi conto che nessuno si metta di traverso. Il giornalismo differenziato penalizzerà le regioni del sud e il Molise? No, anzi le regioni che hanno più da guadagnarsi sono quelle del centro e del sud perché finalmente la politica avrà responsabilità e pagherà se lavorerà male e sarà premiata se lavorerà bene. Noi siamo con gli imprenditori perché elevare a un milione la soglia per procedure veloci, agevolate, per rifare scuole, palestre, impianti sportivi, strade, quelle piccole opere che poi occupano le imprese artigiane del territorio e non le grandi aziende che arrivano da fuori è fondamentale. Speriamo anche questo che nessuno si metta di traverso perché c'era un accordo con i Cinque Stelle per arrivare alla soglia del milione che mi sembra ragionevole per sbloccare questi cantieri. Spero che nessuno stia cambiando idea. Mi occupo di antimafia, combatto gli spacciatori e gli scafisti, non faccio la rimozione di striscioni quindi ognuno è libero di esprimere le idee che vuole. Escludo categoricamente, tenga questa registrazione, finché sono al governo io, finché c'è il governo da Lega, non aumenta l'IVA. Quanto dura questo governo? Per me tanto, se tutti mantengono la parola data tanto. Io sono uomo di parola. Altri vedo che stanno cambiando posizioni sull'immigrazione, sull'autonomia, sulla flat tax, spero che sia solo la campagna elettorale. E quindi sono orgoglioso che ci sia un centrodestra compatto e ci sia una donna, una professionista, una lavoratrice della Lega che si candida a guidare questa splendida città che negli ultimi anni ha rallentato e invece è il capoluogo, merita tanto, merita più cura, più attenzione. Quindi sono contento che per la prima volta nella storia i cittadini di Campobasso possano scegliere la Lega e sono convinto che andrà bene. E quindi ho visto il programma dei candidati della Lega per Campobasso, un programma molto concreto, senza grandi menate, quindi c'è bisogno di concretezza. I disoccupati dell'area del Matese hanno costituito un'associazione denominata Comitato Pacifico Popolare. L'obiettivo è quello di stimolare le istituzioni, in genere la Regione, ad assumere provvedimenti urgenti sia per la ex GAM sia per tutti i disoccupati dell'area. Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Passano gli anni e la crisi produttiva in tutto il Molise, ma in particolare nell'area del Matese, non solo non trova soluzioni, ma peggiora di giorno in giorno. I disoccupati di quell'area, in particolare quelli della GAM, ma non solo, hanno costituito un'associazione denominata Comitato Pacifico Popolare per sollecitare le istituzioni e la Regione a prendere provvedimenti urgenti. I promotori hanno messo nel mirino la politica molisana, il gruppo Amadori e perfino le forze sociali. È un comitato di disoccupati, cassi integrati, imprenditori e rappresentanti di associazioni, semplici cittadini che avvertono la necessità di fare ascoltare alle istituzioni regionali e nazionali il grido di allarme e dolore per l'inarrestabile spopolamento e declino del tessuto socio-economico dell'area Matesina. La scelta di riunirci in presidio temporaneo non poteva che ricadere davanti all'ingresso dello stabilimento, della ex GAM, che riteniamo sia l'emblema di tale declino, ma non perché solo la GAM è in crisi. Qui è in crisi tutto il basso Molise e tutta l'area Matesina. Da quello che continuiamo a constatare non si muove una foglia. Gli obiettivi immediati sono quelli in pratica di favorire l'autoimprenditoria, di spostare l'età anagrafica, che diciamo così è molto ridotta, quindi noi contiamo un avanzamento per prendere dei contributi, altrimenti qua l'imprenditoria non c'è, è morta. Qualcuno che vorrebbe fare autoimprenditoria non può farlo perché non ha l'età giusta. Qui stiamo fermi al primo aprile. Quanto Amadori al Ministero ha detto che comunque non era più indenzonato a portare avanti il progetto del macello. La cassa integrazione, la cosa certa è che è scaduta il 4 maggio. A oggi ancora non abbiamo fatto l'esame congiunto, quindi non si sa che cosa sta succedendo per gli altri sei mesi. A dare solidarietà anche il sindaco di Boiano, Marco Di Biase, e il presidente dei commercianti boianesi. La mia presenza è doverosa, è una vertenza importantissima per la nostra città. Stiamo parlando di più di 110 famiglie che sono chiaramente in questa situazione spiacevole ormai da anni. Il mio impegno è quello di portare sul tavolo regionale la situazione e che magari nell'ambito dell'area complessa di crisi si possano trovare delle soluzioni o nell'ambito dell'autoimprenditorialità o nell'ambito comunque delle altre misure di politica attiva. Io sono qui insieme a nome dei commercianti di Boiano a chiedere lavoro per gli ex dipendenti GAM. Noi commercianti di Boiano abbiamo una grande sofferenza economica in quest'area perché ovviamente con la chiusura della SAM è venuto a mancare un apporto economico notevole. I carabinieri di Guglionesi nel corso di un controllo in uno stabile in un capannone nella periferia del paese allertati dal proprietario hanno trovato oltre 30 mila euro di refurtiva tra cui un furgone con gru per montaggio risultato rubato a Termoli ma anche diversi attrezzi militari a Termoli hanno subito individuato i legittimi proprietari sempre nello stesso capannone trovati 50 chili di marijuana in parte in essiccazione in parte già raccolta in contenitori al vaglio degli inquirenti gli indumenti trovati vicino al mezzo che lasciano presumere una base logistica come ricovero della refurtiva da parte di autori di furti e rapine. Il proprietario dello stabile era ignaro che qualcuno lo utilizzasse come deposito per mezzi rubati e per la droga in quanto lui il proprietario è da tempo a Milano. Contrasto alla droga insediato il tavolo tecnico in regione. Sentiamo. Riflettori sempre puntati sul fenomeno droga spaccio anche alla luce dell'ultima operazione della polizia di Campobasso denominata Alcatraz che ha portato all'arresto di due donne finite in carcere di un'altra ai domiciliari. Intanto si è riunito il tavolo tecnico per il contrasto alla droga insediatosi da poco a Palazzo Vitale, sede della giunta regionale. Giunta che ha deliberato che la regione in sede di concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma istituzionale potrà chiedere che accanto alla dicitura con il patrocinio della regione molise e accanto al proprio logo venga riportato un motto, uno slogan, un avvertimento contro la ludopatia, la tossicodipendenza, l'alcolismo, il tabaggismo ovvero ogni altro fenomeno di rilevanza sociale. Alla riunione presieduta dal governatore Toma c'erano il sottosegretario alla presidenza della giunta Quintino Pallante, consiglieri di maggioranza e minoranza, l'assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso, i rappresentanti delle procure di Campobasso, Iserni e Larino, la consigliera di parità regionale, il direttore amministrativo dell'ASREM, esperti del CERT, il fondatore della comunità terapeutica alla Valle di Toro, padrelino Iacobucci. Il tavolo tecnico istituito con ordine del giorno votato dal consiglio regionale si propone, è stato detto, di promuovere un coordinamento con le amministrazioni locali, piani sociali, responsabili del CERT, per programmare in tutto il molise politiche di prevenzione e contrasto alla droga e per il trattamento e il recupero di chi fa uso di stupefacenti. Sono diversi e complessi i problemi legati alla droga. A questo primo incontro, si è stabilito, ne farà a seguito un altro, di qui a un mese, in cui si stilerà e approverà un programma per approntare azioni di informazione capillare sul territorio contro le tossicodipendenze. La repressione è importante ma da sola non serve. Si è fatto tanto a livello di prevenzione, anche voi come Mass Media e soprattutto le testate locali state dando molto risalto a questo problema. Non c'è dubbio che in questo periodo si è cominciata a creare una maggiore coscienza rispetto al problema, però da qui alla soluzione siamo lontanissimi. Ecco, si è fatto tanto ma rispetto al consumo attuale diciamo che non si è fatto ancora niente, come risultati intendo. Probabilmente voglio credere, anzi sono convinto che tutto quello che si è fatto finora possa aiutare le nuove generazioni, non dico nella totalità, ma insomma in buona parte a non entrare in questo giro. Però noi adesso abbiamo l'urgenza anche di far uscire che in questo giro non è entrato. Oggi e domani torna la manifestazione Montenero a Tavola. Si tratta di un vero e proprio villaggio dello street food che proporrà una veste nuova e un ricco programma tra convegni, laboratori, degustazioni di birre e menù tipici a base di prodotti locali, intrattenimento e spettacoli musicali, organizzazione a cura di Comune di Montenero di Bisaccia, Proloco Frentana, Federazione Cuochi, Comitato Feste e diverse associazioni. È tutto per il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Donato Mignogna in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it, contratto di sviluppo dal governo 220 milioni di euro per la ripresa produttiva del Molise. Poi rassegna gruppi scolastici a Larino la diciottesima edizione, ancora Lega per la lotta ai tumori, domenica 19 maggio camminata del benessere tra i tratturi di Montenero, Guglionesi e San Martino. Automobilismo, ultimi dettagli per lo slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini. Ci sono poi le altre notizie sul giornale del Molise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, Salvini bacchetta Di Maio e punta su Campobasso dal codice degli appalti all'IVA, il leader della Lega Lancia Frecciate. Io mantengo la parola, altri cambiano idea nel capoluogo per tirare la volata Maria Domenica d'Alessandro. Andrà bene, questa città merita tanto, ha detto. Poi vediamo le altre notizie. Isernia, ospedale, buone notizie dal direttore Asrem, commissari in silenzio. Si torna a parlare dell'operazione Alcatraz, così Chanel e la cognata gestivano la piazza di spaccio. Guglionesi blitz dell'arma in un capannone agricolo sequestrati, 50 kg di marijuana, mezzi e attrezzature, provento di furto. Campobasso, assunzioni alla SEAD, Alessandro attacca Battista, poi il piano, contratto di sviluppo, via libera del Cipe, fiduciosa, tecla boccardo della Will. Concorsi pubblici, Patriciello al governo, abolite il limite di età, lo prevede l'Unione Europea. Ancora vediamo il punto di Vincenzo Musacchio, dipendenze, l'Islanda le ha sconfitte e noi l'interrogativo. E poi le notizie di Sport, Giro d'Italia, la carovana rosa tocca il Molise nella tappa più a sud. L'intervista con la Izzo deciso, lascio l'Agnone ma dopo aver riconquistato la Serie D, dunque si parla di calcio. E calcio giovanile, poker del Boiano contro l'Atletico e poi Ascoli, campione delle Marche. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise, Salvini Show a Ringa, la folla e ironizza sugli striscioni contro. Tantissimi i sostenitori che nella serata di ieri hanno voluto incontrare il leader del Carroccio sugli striscioni, offre un caffè all'autore del più ironico ma insulti e minacce di morte non sono libere espressioni, ha detto il leader della Lega e vice premier. Poi viabilità tangenziale nord nell'ultimo consiglio dell'epoca battista, Campobasso passa la variante da 18 milioni e senologia reparto unico al Cardarelli, delusioni a Isernia scatta la protesta. Guglionesi i carabinieri recuperano 50 kg di marijuana. Elezioni europee, Patriciello abolire limite di età per concorsi pubblici. Termoli, Roberti presenta i sei punti del suo programma e politica droga in regione, insediato il tavolo tecnico. Per quanto riguarda le altre notizie, quelle di sport, Giro d'Italia, oggi la carovana rosa attraverso il centro del capoluogo di regione e Lupi, Circelli dunque calcio, aumento di capitale prima di tentare il ripescaggio, operazione da 700 mila euro. Vasto Girardi procedono i lavori sul campo, il DS Crudele sonda il mercato e prepara il colpo. Vediamo adesso come titola futuro Molise. Isernia, Senologia, Lasrem spegne le speranze, gli interventi saranno effettuati a Campobasso. Isernia investe una sedicenne sulle strisce pedonali e si dà la fuga e caccia il responsabile. Scoperto un capannone, bazarra, guglionesi all'interno di 50 kg di marijuana e refurtiva per oltre 30 mila euro. Contrasto alla droga, insediato il tavolo tecnico a Palazzo Vitale, dunque in giunta regionale. Ci sono poi le altre notizie su futuro Molise. Isernia, fiera e processione di San Pietro Celestino, modifica la viabilità e i divieti di sosta per il 18 e 19 maggio. Campobasso, domenica 19 maggio, torna il giro delle 12 chiese. Ci sono poi le altre notizie. I quotidiani nazionali adesso partiamo con la prima pagina della Repubblica. Sfiduciati, dallo spread l'Italia fa paura ai mercati, supera quota 290 per i dubbi della tenuta del governo. Conte difficile evitare l'aumento dell'IVA, poi avverte Di Maio, se non la smettete con le sparate arriverà a 400 e salterà tutto. La Lega così non si va avanti, dopo le europee rompiamo. Poi la Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta sui voli di Salvini e striccioni contro Salvini a Firenze e Campobasso a protesta. Ci sono delle foto e ci sono poi le altre notizie e gli approfondimenti sulla Repubblica di oggi. Vediamo adesso la prima pagina del Corriere della Sera. Di Maio alla Lega basta estremismo e modi da casta. Conte difficile evitare il rincaro dell'IVA. L'intervista lite tra alleati sul decreto sicurezza. Ci sono anche qui gli approfondimenti. Ultrascatenati scontri a Roma raggi, dice, barbari scontri tra tifosi e polizia a Roma prima della partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, che è finita poi dopo 2-0 per la Lazio. Non voglio più la pistola con cui ho ucciso il gommista, no alle armi. Questo è il virgolettato dell'uomo che l'anno scorso, il gommista di Arezzo, che l'anno scorso uccise il ladro. Il PM ha chiesto l'archiviazione. Passiamo adesso a vedere il fatto quotidiano. Il popolo degli striscioni. Fantasia contro Salvini. Da Catanzaro la protesta dei balconi sale al nord. Prime indagini su chi li espone. Revelli nuovi girotondi, ma più popolari. Lite, Salvimaio, che noia meglio Magalli, Volpe, scrive Antonio Padellaro. E poi Mazzetta, Comi, Confindustria. Lei deve avere per poi dare il virgolettato. DDA di Milano, l'europarlamentare e candidata di Forza Italia, indagata con il numero uno degli industriali lombardi. Passiamo adesso a vedere il sole 24 ore. Industria, più ordini, ma spread 292 per le liti nel governo. Congiuntura a marzo, più 0,3% del fatturato e più 2,2% per gli ordinativi. Cresce la quota dell'export e poi forte tensione sui mercati. Mozione Lega, Movimento 5 Stelle, cambiare la governance di Banca Italia. La Germania cresce, più 0,4% con l'edilizia, ma lo scontro sui Dazi crea più incertezza. Vediamo adesso Libero. Salvate il capitano Matteo. Contro di lui un plotone di esecuzione. Scrive Renato Farina. Salvini subisce aggressioni quotidiane da avversari politici, giornali e banche. Gli danno la colpa di qualsiasi evento negativo. Deve tener duro. La maggioranza silenziosa è con lui. Conte straparla di aumento IVA. Il carroccio riapre il condono fiscale. E poi la Manfrina. Lega, Movimento 5 Stelle, ormai ci ha stroncati. Scrive Vittorio Feltri. La procura di Milano indaga tutti. Persino il presidente di Confindustria. L'accusa Bonometti pagò consulenze alla Comi, inquisita. La sanità privata costa meno della pubblica. Un esame su due è più caro negli ospedali statali. Scrive Antonio Castro. Passiamo adesso al messaggero. Risale lo spread. Ecco i costi. Differenziale con i Bund fino a 293. Dai conti correnti alla borsa le perdite tornano a 100 miliardi. Di Conte rilancia l'ipotesi di aumento dell'IVA. Piano Lega per la flat tax. Taglia gli sgravi e agli 80 euro. Lo Stato, la Chiesa e il modello Sud America. Il blitz del Cardinale. Scrive Loris Zanatta. La stampa di Torino. Debito. La svolta dei 5 Stelle sui conti. Garantiamo noi. Di Maio spinge il movimento verso il centro. Siamo una forza responsabile. La Lega insiste. Vincoli da sforare. Lo spread tocca i 292 punti. Parla Merkel. La mia Europa saprà difendersi da Salvini. Dice nell'intervista agli italiani. L'Unione Europea può dissolversi. Ancora il virgolettato. Vediamo adesso come titolo è il mattino di Napoli. Anche qui lo spread torna a correre. Il conto pagato dagli italiani dopo le minacce di sforare il deficit. Il differenziale con i Bund vola 290. Tra borsa, titoli di Stato e conti correnti. Non hanno persi 100 miliardi. Il mezzogiorno verso l'Europa. Il sud del paradosso dei fondi. L'Unione Europea. Indispensabili anche se spesi male. Dal mattino passiamo alla verità. Anche Di Maio si iscrive al partito dello spread la metamorfosi dei grillini. Fino a una settimana fa voleva sforare il 3% del rapporto debito PIL. Ora che lo dice Salvini strilla la deriva populista. Ennesima giravolta elettorale con l'occhio al PD. Scrive Maurizio Belpietro. E ancora l'Unione Europea amata da Zingaretti lo vuole stangare perché discrimina i Rom. Per Bruxelles il Lazio penalizza i nomadi nell'assegnazione delle case popolari. Il surreale cortocircuito produrrà una multa. L'articolo è di Mario Giordano. Ora vediamo il tempo. Unione Europea che geni date più case ai Rom. Pronta la procedura di infrazione alla regione Lazio perché discriminerebbe i nomadi. Ma sulle case popolari ci si infiamma per il motivo opposto e a Bruxelles lo ignorano. L'articolo è di Franco Bechis Castelli. Nell'abitacolo con la Lega. Lavoro bene ora la Platax dice. Passiamo al manifesto. Affacciati alla finestra. Sui balconi d'Italia esplode la protesta anti Salvini. La rimozione forzata dello striscione di Brembate provoca una reazione spontanea da nord a sud. Domenica a Milano si annuncia una contestazione di massa di lenzuoli contro il comizio del leghista con Marine Le Pen. A bordo l'Alabama chiede l'ergastolo. Offensivo scurantista negli Stati Uniti. Associazione e donne sul piede di guerra. Scrive Marina Cantucci nell'articolo. Vediamo adesso come titolo a avvenire. Il quotidiano dei Vescovi ha tutto spread. L'economia è senza sprint. La Lega insiste a voler aumentare il deficit. PIL oltre il 3%. Movimento 5 Stelle dai responsabili. Il differenziale supera i 290 punti. Ci sono poi i commenti. Niente taxi del mare ma un altro soccorso. Archiviata Open Arms su Sea Watch 65 Naufraghi. Ora vediamo come titola invece la gazzetta dello sport. Volo Lazio, Furia, Gasp, Furia Gasperini. Finale di Coppa Italia all'Olimpico Atalanta. Battuta 2 a 0. Incidenti nel prepartita. Milinkovic e Correa firmano il trionfo dei ragazzi di Inzaghi. Furia, Gasp, fallo di mano di Bastos sullo 0 a 0. Errore vergognoso. Era rigore, dice l'allenatore dell'Atalanta. Poi il giallo della cena. Panchine bollenti, retroscena bianconeri. Una giornata all'inseguimento di Allegri e Agnelli. Poi in serata l'atteso incontro sul piatto la nuova Juve. E potrebbe servire un altro vertice. Che bufera su De Rossi gli ultra? Deve restare dopo l'annuncio dell'addio alla Roma. E poi Super Champions altri no. Cairo, il presidente del Torino, dice va a zerata. Il piano bocciato da Francia e da Germania. Nadal, la mia Roma, la pesca e le nozze. L'intervista parla il campione spagnolo. Rafael Nadal, che ha vinto otto volte al Foro Italico, dunque a Roma. Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre, in diretta alle 14 con il Telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito.